E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, faccio questo video per parlare ai giovani, va bene, per parlare ai giovani, seguitemi sui social, seguite Surfasport su Instagram, signori, e quest'oggi voglio devastare, guardatevi tutti i video fatti che abbiamo fatto in questi giorni, nazionale, calciomercato, la nazionale, la selezione dei giocatori del Veneto che abbiamo provato ad immaginare, e stasera vi pubblico anche il video con il mio fare calcio, cioè come per me si deve giocare a calcio, i miei allenatori preferiti, il mio sistema di gioco, il mio modo di intendere il pallone, però voglio fare questo video che è un pupurri dello sfogo, le olimpiadi, le olimpiedi dello sfogo, perché stanno emergendo diverse questioni che negli anni con anticipo, con anticipo avevamo preannunziato e stanno signori venendo fuori, allora adesso tutti ce l'hanno con Locatelli, ma perché fai giocare Locatelli, perché non gioca Tonali, Locatelli sopravvalutato, Locatelli non può giocare e via dicendo, non può circolare, Locatelli non è più lui, allora, io mi ricordo ad inizio stagione c'erano degli juventini che venivano a dire che Locatelli era il miglior centrocampista italiano in circolazione e via dicendo, a parte che non sono assolutamente d'accordo, ma vi dico di più, questa ondata di indignazione per il locatellismo di Mancini, che si accusa Mancini di essere una bimba di Locatelli, ma paradossalmente, prima di una gara contro l'Irlanda del Nord, è pure fuori tempo, perché Locatelli, rispetto a Tonali, è anche un giocatore che teoricamente, prima della cura di Allegri, che l'ha indietreggiato di 20 metri praticamente, Locatelli è un giocatore che vede di più la porta di Tonali, quindi in una gara dove devi andare a segnare caterve di gol, possibilmente, sarebbe quasi più conveniente far giocare Locatelli, se non fosse Locatelli che vediamo oggi, ma che poi Tonali sia un giocatore di caratura, di sostanza, di quantità superiore a Locatelli, beh signori, io penso che scopriamo l'acqua calda, e la scopriamo anche nei confronti di chi l'anno scorso diceva che era scarso, il bidone Tonali, Tonali è un bidone, per fortuna che l'ha preso il Milan, lo dico? Lo dico? Lo devo dire? Tonali è ad oggi, per stato di forma, è il miglior centrocampista italiano, a me piace moltissimo anche Barella, però per quelli che sono in margini di miglioramento, si giocano già loro due il posto, per il miglior centrocampista italiano, per stato di forma, per dinamismo, e guardate che Tonali ha le stigmate, ha le stigmate, signori del grande campione, Tonali ha le stigmate del grande campione, sia per quel che riguarda il suo club, dove si avvia già adesso ad essere un riferimento, non solo in campo, ma anche come figura, moralmente, come imperio, ma anche in nazionale, Tonali lo vedi che ha la stazia, che ha il modo di fare, il modo di stare in campo, lo sguardo del grande campione, tutte cose che si vedevano, ma io oso ancora di più, signori, volete che oso, volete che devasto, ma lo faccio senza problemi, Rabiot, è meglio di Locatelli per me potenzialmente, Rabiot, che ieri ha segnato, è un giocatore molto forte potenzialmente, poi sono d'accordo con voi che è discontinuo, sono d'accordo con voi che 7 milioni, quanto prende 7 e mezzo all'anno, siano un'enormità, sono d'accordo con voi, sono d'accordo con voi che possa fare di più, anche alla Juve che ci si aspetta di più, ma Rabiot è un centrocampista che se valorizzato, se inserito in un suo contesto, è un ottimo giocatore, con la Francia gioca sempre, gioca titolare, spesso fa assist, gol e prestazioni importanti e impreziosite, io ve lo dico, perché poi dici, ma perché non te lo prendi nella tua squadra? Ma io Rabiot alla Fiorentina me lo prenderei volentierissimo, anzi sarebbe un giocatore, e ne parlo anche ai miei amici della Fiorentina, che con italiano potrebbe veramente essere quel centrocampista di visione, che punta anche la porta, che può andare a segnare con gli strappi che può inserirsi, il problema è che prende una caterva di gol, ma se fosse per me Rabiot alla Fiorentina, ma firmo con le feci, signori, firmo con le feci, a me Rabiot piace molto, e mi ricordo anche, anzi vi ricordo, che Rabiot nella seconda parte di stagione con Sarri, si impose probabilmente come il miglior centrocampista della Rosa per rendimento, da che ci fu il ritorno in campo dopo il lockdown, Rabiot con Sarri performava, così come performava con Pirlo l'anno scorso Rabiot, poi è vero che nelle prime fasi della stagione spesso fa fatica ed esce nella seconda, ma le qualità potenziali di Rabiot sono in dubbio, e se ci fosse la possibilità, io Rabiot alla Fiorentina me lo prenderei, purtroppo non verrà mai, temo, per lo stipendio, per lo status, però a me Rabiot piace, Rabiot è un giocatore che mi piace più di Locatelli, per esempio, più di Locatelli, che vi ricordo è stato pagato un botto di soldi, un sacco di soldi, e che non ci ho mai visto, questo giocatore di sei categorie superiori che viene dipinto, mi sembra anche un giocatore abbastanza leggerino, un giocatore e va leggero, un giocatore abbastanza volubile, non ho mai capito anche che tipo di ruolo abbia, è un regista, è un incursore, non mi ha mai entusiasmato onestamente, non mi ha mai entusiasmato, poi veniamo ad un altro dato che ho reperito ieri, ho reperito ieri e ve lo leggo molto volentieri in diretta, che riguarda un altro giocatore della Nazionale che l'altro giorno, l'abbiamo anche detto, poteva entrare, non è stato fatto entrare sbagliando perché era uno che poteva anche spaccare la partita, Cristiano Biraghi signori, Cristiano Biraghi è al quarto posto in Serie A per i passaggi chiave, per il numero di passaggi chiave, allora anche qui osiamo, possiamo osare, osiamo dicendo, Biraghi è il regista della Fiorentina, Biraghi è il regista offensivo della Fiorentina, Biraghi è il giocatore da cui passa la manovra della Fiorentina, 22 passaggi chiave davanti, anzi al pari di Malinoski, davanti a gente come Veretù, davanti a gente come Cialanoglu, davanti a gente come Felipe Anderson, davanti a gente come Barella, davanti a gente come Quadrado, giocando nella Fiorentina che sta andando bene ma non è nell'Inter, non è la Juve, non è il Milan, ok? Cristiano Biraghi signori, anche l'altra sera al posto di vedere un Emerson Palmieri che non è né carne né pesce, perché non si poteva, visto che l'hai convocato giustamente, perché non mettere Biraghi in campo? Poi sono d'accordo anche con chi fa notare il fatto che, ma perché Di Marco non è stato convocato? Io sono d'accordo con voi, ma infatti io preferisco a questo Emerson Palmieri qui, visto l'altro giorno e spesso visto in nazionale, preferisco assolutamente anche Di Marco per stato di forma, che poi Emerson mi pare anche che non sia, lui la carriera mi sembra non la inizi neanche come esterno a tutta fascia, Emerson Palmieri inizia la carriera nella Roma come terzino basso, addirittura difensore se non sbaglio, poi è stato adattato in quel ruolo, ma non vedo l'aggiunta, cioè non vedo questa caterva di gol, di assist, di prestazionismi che può offrire. Poi un'altra cosa sulla quale ci eravamo esposti e arrivano tutti in ritardo, adesso Gentile, che era un, oltre ad essere un grandissimo difensore ex della Juventus, ex della Fiorentina, il buon Gentile, ok, ha detto proverei Scamacca contro l'Irlanda del Nord, ma non ci si può svegliare adesso, non ci si può svegliare adesso a parlare del, e non lo dico ovviamente a Gentile, ci mancherebbe altro, lo dico al CT, lo dico a chi doveva fare queste scelte qui. Il problema del centravanti nazionale è un problema che sussiste da che è arrivato Mancini e forse anche prima, ok, da che è arrivato Mancini e forse anche prima, ma più in generale c'è un discorso nazionale che va fatto, che è quello di andare a rimestare in quelle che sono le inerzie dell'età, le inerzie della Serie A, vedere se ci sono dei giovani che possono colmare questo gap, giovani da andare a promuovere, anche con coraggio, vi ripeto, io che a sta bolla, Luca, onestamente, credo e non credo, ma perché non potevi portare lui, come avevi fatto a suo tempo con Zaniolo, lo portavi, vedevamo che tipo di impatto aveva, allo stesso Scamacca, può piacere o non piacere, ma a livello di fisicità, a livello di presenza, a livello di capacità di interpretare quel tipo di ruolo, ruolo della prima punta, della prima punta fisicata nel 4-3-3, Scamacca è il non plus ultra ad oggi che hai, ti può piacere, ti può non piacere, ma è così, ma è così, ma è così, quindi anch'io punterei assolutamente su Scamacca nel 4-3-3 della nazionale, ma anche a più riprese, non ti piace Scamacca? Non lo vedi? Pensi che non sia sto gran giocatore? Luca, prova Luca, prova Luca, ma io sono convinto che Scamacca poi potrebbe assolutamente andare a tornire a quel tipo di ruolo, andarlo a tornire, andarlo a tornire a quel tipo di ruolo, quindi facendo un sunto. Per quel che riguarda la Fiorentina, occhio a Biraghi, perché imbarba agli insulti degli anni scorsi, alle critiche e via dicendo, è un giocatore fondamentale e lo dimostra il minutaggio, lo dimostra la convocazione anche in nazionale e lo dimostrano i numeri, i fatti, le verità, lo dimostra il fare calcio. Se per riguardo la Fiorentina potrebbe essere utile, poteva, perché adesso è tornato a casa, essere utile anche l'altra sera. Riguardo a Rabiot, io me lo prenderei tutta la vita e attenzione, perché secondo me è anche più forte di Locatelli ed è uno dei pochi centrocampisti tutto sommato che alla Juve Tarrei, che alla Juve Tarrei ovviamente chiedendogli qualcosina in più perché anche lui deve metterci del suo, però a me Rabiot piace assolutamente. Occhio a Tonali perché è già ad oggi, per stato di forma, probabilmente il miglior centrocampista italiano, ma è un giocatore che negli anni prossimi diverrà un perno della sua squadra e anche della nazionale. Io se fossi milanista vi dico la verità, avrei un'adorazione per Tonali come quella che ho per Biraghi da tifoso della Fiorentina, cioè veramente sarei un difensore strenuo del tonalismo. Ebbene fai Sandro, signore, ebbene hashtag, ebbene fai Sandro. E poi scamacca, signore, non ci si può svegliare prima di una partita del genere a rendersi conto che alla nazionale serve un centravanti e che abbiamo fatto due anni senza averlo, senza valorizzarlo, se non sperando che Immobile portasse i numeri che sta mettendo in mostra la Lazio e anche il nazionale in uno schema diverso, in un modo di giocare totalmente diverso. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto.